Giorgia Meloni non sta bene, la notizia inaspettata sulla figlia. Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di immergervi nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Ora, passiamo al cuore della questione. La nostra premier ci ha inviato un messaggio video speciale, in cui torna a discutere della sua recente separazione da Andrea Gianbruno. Questa situazione ha scatenato diverse reazioni all'interno del suo staff, con segnalazioni riguardo al suo stato d'animo attuale, che sembra essere segnato da una certa tristezza. Inoltre, la presidente ci ha confessato di essere incerta riguardo all'opportunità di un suo ritorno in Italia e sulla possibilità di poter essere fisicamente presente tra di noi. È importante sottolineare che, al di là del suo ruolo istituzionale, anche lei è un essere umano con sentimenti e preoccupazioni personali. Desidera trascorrere del tempo con la sua famiglia, in particolare con la sua figlia. Pertanto, auspica di trovare comprensione tra coloro che la sostengono, i simpatizzanti, i rappresentanti, i militanti e i dirigenti di FI. Questi avvenimenti si inseriscono in un contesto più ampio. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha condiviso queste riflessioni in un video registrato ieri in occasione dell'evento e per l'Italia vincente, un anno di risultati e a Roma. Tuttavia, è da notare che Meloni non ha potuto partecipare personalmente all'evento, a causa di un viaggio al Cairo e delle turbolente vicissitudini personali che hanno portato alla sua separazione da Andrea Gianbruno. Per quanto riguarda la separazione da Andrea Gianbruno, la premier aveva dichiarato nelle ultime ore di sentirsi bene e di non desiderare più discuterne pubblicamente. Tuttavia, emerge un quadro diverso dal suo staff, che evidenzia la sua attuale malinconia. Inoltre, il ministro Guido Crossetto ha preso posizione sulla vicenda, respingendo categoricamente l'ipotesi di un complotto. Le sue parole sono state chiare, non esiste alcun complotto. Ne Forza Italia negli eredi di Berlusconi si presterebbero a un'azione così volgare. Il problema risiede nella qualità di alcune trasmissioni che fanno affidamento sul gossip, sulla violazione della privacy altrui e sulla costruzione di teorie infondate. Se dovessi girare per strada e iniziare a registrare la vita delle persone, compresa la loro vita privata, molte di esse non uscirebbero affatto bene da questa situazione.